Una notizia molto importante, attesa dalla comunità locale e soprattutto un obiettivo al quale l'amministrazione non ha mai smesso in questi anni di lavorare. Una ferita al centro storico del capoluogo di Cartoceto iniziata tra il 2012 e il 2013 con i due crolli che hanno interessato due parti diverse del centro storico di Cartoceto. In questi anni sono stati investiti già oltre 1.600.000 euro, ma questo contributo ulteriore di circa 1.500.000 euro ci consentirà di scrivere la parola fine su quelli che sono ancora i tre interventi necessari, ovvero la messa in sicurezza, il consolidamento e il restauro conservativo del terzo stralcio lungo via Cavour, del bastione pentagonale e anche di piazza Marconi che in parte va ricostruita. Con questo ulteriore contributo concludiamo tutti quelli che sono gli interventi ancora necessari rispetto alla cinta muraria di Cartoceto alla quale possiamo così ridare nuovo splendore e soprattutto la bellezza originaria che merita.